ciao è un bel messaggio eh tieniti sempre compagnia ho visto delle coppie che sono sposate da 30 40 anche 50 anni e ho detto ma come state bene e alcune di loro non mi hanno detto ci amiamo non mi hanno detto ci amiamo godiamo siamo in estase viviamo orgasme no la maggior parte mi hanno detto ci teniamo compagnia compagnia allora io dico va bene cercare la compagnia in un'altra entità vivente in un altro essere umano qualcuno cerca la compagnia anche in esseri di corpi diversi il cane il gatto il canarino adesso qualcuno c'ha i conigli qualcuno che sa un giardino grande ha preso anche dei maialini insomma ho visto gente che ha dei ricci dei procioni va bene ma tu tieniti compagnia io sono contrario alla monarchia diciamo che non sono favorevole lì che cosa succede che le regine avevano delle donne chiamate dame di compagnia con cui fare il pettegolezzo prendere il tè i pasticcini ciaccolare girare intorno al palazzo reale così i maschi avevano le dame di compagnia a corte chiamate cortigiane oggi si chiamano prostitute le chiamavano cortigiane tutto perché bisogno di compagnia rinascere vuol dire bisogno di compagnia ma la compagnia è limitata ai corpi che poi cambiano quindi quando io dico tieniti sempre compagnia ti sto dicendo che cos'è lo yoga yoga vuol dire unione armonica corpo mente spirito spirito mente corpo fa parte di una filosofia che in sanschio si chiama sanatana dharma eterna sanatana conoscenza spirituale quindi è l'eterna conoscenza spirituale della vita qual è il primo unico grande insegnamento impara a star bene con te stesso quindi la solitudine ancora ultimamente ho visto un articolo di qualcuno che parlando di psicologia confonde la solitudine con l'isolamento la solitudine è uno stato di tranquillità di serenità mentale l'isolamento è il vuoto e mancanza e carenza e bisogno mettiamolo sulla fame la solitudine è che io mangio giusto quello che serve per mantenermi in buona salute l'isolamento è io muoio di fame quindi la solitudine ripeti con me io voglio stare bene con me stesso da solo e in compagnia altrimenti c'è è come il tergicristallo come il pendolo lo spirito avendo la mente confusa perché la mente è una grande energia può essere amica o nemica sei confusa nemica come fai a dare alla mente il giusto comando con l'amore amati anche gesù l'ha detto amati ed ama il prossimo come te stesso all'inizio doveva dire amati e ama il prossimo come te stesso invece ha messo in fondo se è vero che lui ha detto quella frase ama il prossimo tuo come te stesso quindi lo yoga dice amati trattati bene e tieniti sempre compagnia altrimenti oscilli quando sei solo io parlo a te spirito eterno parlo in modo spirituale quindi puoi avere qualunque tipo di corpo ho incontrato persone che mi hanno detto io sono un uomo bravo io sono una donna bene uno mi ha detto io sono lesbica bene io sono trans transgender sono io sono bisex insomma tu io dico tu secondo me sei uno spirito eterno incarnato allora impara a tenerti compagnia altrimenti vivi nell'oscillazione continua cerchi compagnia dopo un po ti mancano quelli che qualcuno chiama i miei spazi la mia privacy mi sento soffocare mi sento chiusa opprimere voglio stare solo allora uno comincia che non parla più dicono cosa c'hai no niente come mai che non parla come mai che stai sempre chiuso in camera voglio stare solo ma non avendo la realizzazione spirituale che in inglese si chiama ma è bello self realization quando paramassa yogananda faccio vedere la foto è venuto nella cultura occidentale a portare questi insegnamenti in inglese la definita self realization self realization che vuol dire realizza chi sei veramente self il vero io noi abbiamo due io uno io è l'io Giorgio Cerquetti con un corpo che cambia ogni giorno il cui cambiamento si vede nel corso degli anni e uno è l'io eterno che non è Giorgio Cerquetti quindi quello è il grande io e quest'altro è il piccolo io allora il grande io deve imparare a stare in compagnia con se stesso io mi tengo compagnia quindi l'invito del video è tieniti compagnia con amore con intelligenza con consapevolezza con forza anche se no tu quando stai solo cerchi la compagnia allora vai nei locali nelle discoteche che arriva al mare quanta gente si veste si guarda allo specchio si prepara si mette delle creme per cercare compagnia poi quando la trova io ho bisogno di stare solo e quindi è venuto fuori un fenomeno chiamato single in inglese singoli ma cosa vuol dire noi siamo individui dice a Milano il 44% degli abitanti sono single ma perché non ha detto a Milano il 100% degli abitanti sono individui di cui il 44% preferisce vivere da solo e gli altri hanno figli hanno parenti convivono ognuno dovrebbe essere individuo consapevole coscienza individuale consapevole che sa tenersi compagnia io mi auguro che il messaggio sia arrivato tu hai il grande potere di stare bene sia con te stesso che in compagnia e nella compagnia scegli la compagnia giusta quindi alla mattina alzati e di proprio lo devi dire devi far uscire da qui fin qua oggi voglio incontrare le persone giuste dove giusto non vuol dire giusto sbagliato ma compatibile con il mio campo energetico oggi voglio incontrare le persone giuste se lo ripeti per un po' di battine la tua mente come un radar ti farà incontrare le persone giuste come faccio a dirlo l'ho praticato e ha sempre funzionato ciao